Diciamo che in queste città si sta verificando un'emergenza democratica, perché oltre alle fotografie famose, oltre alle notizie di strani giri elettorali, pre-elettorali nelle periferie vogheresi, oggi si verificano anche queste cose e tutti a danno del sottoscritto, tutto a danno del sottoscritto e delle nostre liste collegate. Quindi cosa ci ha fatto leggermente in bestialiera.